Il presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo e commissario straordinario Massimo Ferrarese, superati gli scogli del decreto governativo e delle clausole regionali, ora tenta di velocizzare la burocrazia italiana, vero tallone d'Achille del nostro Paese. Tu puoi fare il commissario straordinario e avere quindi ambi i poteri, puoi essere sostenuto dal governo, puoi anche avere i fondi a disposizione, ma ci sarà sempre quella conferenza dei servizi che slitterà per un motivo qualsiasi e che quindi ridurrà i tempi a disposizione che, come si sa, sono già ridotti di almeno quattro anni in questo caso. A parte le battute, che battute non sono, Ferrarese vuole dribblare questi ostacoli e quindi si appella in vitalia affinché, per la rilevanza internazionale dei giochi, per l'importanza strategica per il territorio coinvolto della realizzazione delle infrastrutture sportive, si predispongano in tempo le procedure per arrivare a quel cartello lavori in corso, che non potrà che essere esibito entro l'autunno di quest'anno. Parliamo anche di finanziamenti e di opere pubbliche. Ferrarese su questo va cauto, come va cauto sulla storia dell'Erasmo Iacovone, ma questo è un problema che sorgerà se sorgerà. Giocare mentre si lavora, insomma, staremo a vedere. Nei prossimi giorni aumenteranno i contatti con i sindaci della provincia di Taranto, molti progetti approvati, che anche qui sarà importante iniziare i lavori al più presto. Tra sopralluoghi e progetti, incontri e riunioni, il tempo passa. All'inizio della prossima settimana arriveranno anche le risposte da Invitalia. Speriamo bene. Ci sembra importante ripetere che è arrivato il tempo di lasciare le polemiche alle spalle. Arrivare preparati ai giochi del 2026 deve essere un impegno per tutti. Ora bisogna accompagnare il commissario in un lavoro importante e difficile. Lavorare sodo e soprattutto in fretta in Italia non è stato mai semplice.